ma guarda l'inter di quest'anno ti dico certamente molti parlano di questa dicotomia insomma questa ma più che dicotomia somiglianza è più giusto ma tra tra i dalle e che so per esempio n'engolan credo che n'engolan se lo fai giocare davanti tra i card magari con Perisic va bene quel nuovo ruolo Vidal può stare tranquillamente più indietro con Brozovic quindi non vedo tutti questi problemi che stanno dicendo anzi ad averli questi giocatori su Modric penso sia onestamente difficile per quelle che sono le situazioni del Real Madrid mi aspetto di più dai card la davanti fa tanti gol score esagerati però aiuto magari un po' con la squadra di lì magari vorrei vedere qualche cosina in più perché pure Perisic dà molto di più per esempio con la Croazia con uno come Mazzucic che fa anche un po' di movimento ma quest'anno mi aspetto molto di più dall'Inter ha fatto un mercato ordinato competitivo e certamente darà fastidio alla Juve